ciao ragazzi carissimi sorelle fratelli camperisti niente oggi è il 28 maggio 2023 stiamo per partire da siracusa per andare alla fiera del del fitness a rimini a rimini perché anche noi camperisti facciamo sport sono il 19 e 07 partiamo da siracusa ovviamente in questo momento prima passeremo da prima passeremo da cattolica dall'acquario dall'acquario per vedere la quale già abbiamo visto più della volta faremo tanti video in questa settimana fuori che poi andremo a gradata ad altri posti per cui ragazzi seguiteci e lasciate un bel un bel messaggio un bel mi piace e scrivetevi tanto è gratis il canale non ha scopo di lucro è aperto a tutti allora noi andiamo perché spero di traghettare in serata sicuramente cenare e fare un po' di strada in modo che domani così di poter arrivare a cattolica a cattolica abbiamo visto c'è un bel parcheggio proprio vicino il l'acquario ok ciao a tutti una buona serata e alla prossima e seguiteci ciao vogliamo bene ciao fratelli e sorelle camperisti ciao ciao